devi ragionarla ed è il tuo lavoro non sa cosa devi... ma vedete un po' e un po' piano ehi dovessimo andare incontro a pochi problemi massimi niente e attenta eh senti che c'è la grande ma spostati perchè lui è veloce si deve elevare hai capito? perchè lui è molto più veloce di ora perchè ha capito questo capitolo mi fa paura guarda è bellissimo hai visto? si ha capito? ma guarda lo sguardo guarda l'istinto guarda l'istinto guarda questa è un capro che ha capito bene ma guarda che se lui le attacca cioè se lui fa quello che deve fare loro si spaventano è lui che non è sicuro di sé giustamente 5 minuti è bello che ti mi segui cerco protezione da me bravo 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 vai tranquilla guarda che se te li abbai si spaventano diggilo eddi eddi diggilo diggilo eddi diggilo eddi diggilo 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 eddi e e e e e e e e